Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura la cronaca è Antonio D'Angelo, 76 anni del posto, la vittima dell'incidente mortale accaduto questa mattina a Roccamorice in provincia di Pescara. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era davanti alla sua casa quando un furgone utilizzato da due coniugi romeni che stavano svuotando la cantina dell'abitazione da materiali ferrosi in una zona in leggera discesa si è improvvisamente sfrenato andando a travolgere l'uomo che è stato colpito morendo sull'impatto a causa dello schiacciamento del cranio e del torace. Un medico di passaggio è subito intervenuto per prestare le cure all'anziano ma non c'è stato nulla da fare. Da Pescara si era già alzato in volo l'elisoccorso del 118 che è stato poi deviato su un altro intervento. Sulla dinamica dell'accaduto stanno indagando ancora i carabinieri della stazione di San Valentino in Abruzzo Citeriore. Dell'accaduto è stata informata l'autorità giudiziaria. Il furgone e i materiali sono stati posti sotto sequestro. I due coniugi sono stati denunciati per omicidio colposo e raccolta abusiva di materiali ferrosi. La salma del 76 è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Pescara. Poi ancora era stato investito da un camion nello scorso 3 ottobre a Lanciano. Oggi il 73enne Rocco Franceschini è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara a seguito del politrauma riportato. L'incidente era avvenuto in via Decrecchio in pieno centro cittadino. Il pensionato stava attraversando la strada quando è stato investito dalla parte anteriore del mezzo, subito dopo sequestrato dalla polizia municipale. Il conducente del camion ora è indagato per omicidio colposo. Ed è finita ieri sera l'odissea dei pellegrini in viaggio per Lourdes, bloccati per oltre 14 ore sui 5 treni bianchi messi a disposizione dall'Unitalsi. Il viaggio per Lourdes dell'Unitalsi con a bordo circa 2.500 persone, a bordo dei 5 treni bianchi, diventa un odissea. Matteo Di Giuseppe, tra i passeggeri, ci racconta la sua esperienza. Sì, noi siamo partiti da Lourdes nel pomeriggio di sabato verso le 2 e un quarto. Praticamente la sera, invece di arrivare a Ventimiglia, ci hanno dirottato su Marsiglia verso le 11 di sera, su per giù. All'inizio non sapevamo il motivo di questo dirottamento su Marsiglia, poi mano a mano ci hanno informato delle notizie che giungevano da Cannes e quindi dell'alluvione delle vittime. Subito ci hanno soccorso, diciamo, ci sono venuti incontro sia la Croce Rossa francese, la protezione civile francese e la polizia, diciamo, che ha ascoltato la stazione dove stavamo insieme ad altri treni francesi. Ci hanno dato dei viveri. Poi verso l'1, dopo 14 ore, quindi siamo ripartiti da Marsiglia, però il tratto per Ventimiglia era bloccato, quindi abbiamo fatto il vecchio percorso passando da Lione, Modan e Torino. Alcune necessità principali che abbiamo avuto è stato per quanto riguarda una signora che doveva fare la dialisi, che poi da Modan l'abbiamo, diciamo, trasferita sul treno dell'Emilia perché abbiamo incontrato un altro treno a Modan dell'Emilia e poi da Torino è stata fatta scendere e ha fatto, diciamo, la dialisi direttamente a Torino e poi l'abbiamo fatta rientrare con altri mezzi. Quindi, diciamo, rientrati a Torino abbiamo anche avuto assistenza dalla Croce Rossa italiana con le ambulanze che hanno preso, diciamo, questi disabili con maggiori necessità di dialisi. Due giorni di viaggio, quasi 15 ore bloccati sui treni, cosa avete fatto, come le avete vissute queste ore? No, fondamentalmente le abbiamo vissute con serenità perché siamo potuti comunque scendere in stazione, quindi abbiamo colto l'occasione per conoscerci meglio, per farci qualche chiacchierata in più insieme ai nostri amici disabili, in maniera, diciamo, da non creare panico, ansie, perché comunque fondamentalmente noi non abbiamo vissuto l'alluvione in prima persona, quindi non abbiamo avuto queste paure, queste necessità dovute alla pioggia. Però la paura principale era quella che si creasse, diciamo, un po' di panico all'interno dei passeggeri, quindi tutto il personale unitarsi, diciamo, è rimasto tranquillo, fatto gruppo, ci siamo uniti e insieme anche pellegrini e malati abbiamo superato questa difficoltà. Il Gup di Pescara Gianluca Sarandrea, su richiesta del PM Gennaro Varone, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara in merito al processo sui presunti rimborsi facili alla Regione Abruzzo a carico degli ex assessori regionali Mauro Di Dalmazio, Angelo Di Paolo e Gianfranco Giugliante. I fatti contestati a Di Dalmazio e Di Paolo sono di competenza del Tribunale di Roma, quelli contestati a Giugliante sono di competenza del Tribunale di Livorno, i tre sono stati accusati di peculato, il solo Di Dalmazio deve rispondere anche di truffa. Dovrà affrontare il processo a metà settembre prossimo Filippo Giacomelli, 58 anni, professore presso l'Università dell'Aquila, imputato di comportamenti persecutori nei confronti dell'ex moglie, il giudizio si terrà al Tribunale di Roma. Era diventato un tormento per l'ex, tanto da aver adottato nei confronti di questa condotte persecutorie che avevano generato stadio d'ansia e paura che l'avevano costretta a modificare le proprie abitudini. Per questo motivo Roberto Giacomelli, 58 anni di Roma, ordinario di reumatologia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie dell'Università dell'Aquila e membro del CDA dell'Ateneo, dovrà affrontare il processo fissato a metà novembre del nuovo anno al Tribunale di Roma, a disporre il rinvio a giudizio, il gruppo del Tribunale Capitolino Vilma Passamonti, dopo aver valutato il materiale probatorio raccolto e le testimonianze. Secondo l'accusa Giacomelli, con le sue condotte, avrebbe costretta la sua ex moglie a essere accompagnata a casa da amici e conoscenti, a variare gli orari relativi alle sue uscite di casa o a cambiare itinerari per evitare di incontrarlo, a rimanere in casa temendo i suoi continui appostamenti. Tra le accuse mosse anche chiamate incessanti al telefono, ma anche aggressioni verbali per motivi di gelosia, alla presenza sempre di amici e conoscenti e minacce violente con la frase «se mi tradisci ti uccido». Sarà il Gup Nicola Colantonio a occuparsi della vicenda a carico di una 21enne di Civitacuani, provincia di Pescara, accusata di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso e anche di calugna. Il Gup Gianluca Sarandrea è infatti incompatibile in quanto si è occupato del caso in qualità di giudice per le indagini preliminari e quindi il procedimento è stato assegnato ad un altro giudice del Tribunale. La prossima udienza si terrà a gennaio 2016. I fatti risalgono al periodo compreso tra la fine di gennaio e la metà del febbreo del 2014. Secondo l'accusa, la ragazza giunta al settimo-ottavo mese di gravidanza, anche agendo in concorso con altre persone non ancora identificate, avrebbe provocato la morte del figlio neonato immediatamente dopo il parto o comunque del feto durante il parto e successivamente ne avrebbe occultato il cadavere. Sulla relazione ispettiva del MEF che ha criticato la gestione economica e patrimoniare e appunto relativa ai bilanci della giunta Mascia nel quadriennio 2011-2014, oggi ha parlato l'attuale primo cittadino Marco Alessandrini. Succede che l'attività amministrativa viene alla fine, viene in qualche modo smascherata l'attività amministrativa di chi ci ha preceduto. L'avvio cioè della procedura di riequilibrio finanziario ha fatto sì che come la previsione di legge la ragioneria generale dello Stato abbia qui inviato un ispettore che ha svolto una accurata analisi e lo ha fatto con la competenza propria e tipica di un organo terzo, è evidenziato in maniera inequivoca la gestione finanziaria precedente che ci ha portato ad un'eredità finanziaria per l'appunto disastrosa e che ha imposto a questa amministrazione per salvare la baracca, la barca che stava affondando, ci ha imposto politiche senz'altro impegnative nei confronti della cittadinanza. Noi abbiamo sempre cercato di spiegare questo evidenziando come non c'erano alternative a dette politiche che però lo ricordo non sono solo di innalzamento della pressione fiscale ma sono anche di robusto taglio della spesa corrente di questo ente e lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli che Pescara senza una solidità finanziaria naturalmente non può pensare di proseguire nelle sue traiettorie di crescita. Siamo consapevoli che è un lavoro impegnativo ma non ci siamo sottratti alla responsabilità, non abbiamo nascosto la polvere sotto il tappeto, non abbiamo come dire volto la testa da un'altra parte ma abbiamo maneggiato con serietà questa situazione. Credo che ciò valga anche a rendere inequivoco in qualche modo di chi sono le responsabilità di una situazione così complessa e penso che le operazioni verità siano sempre necessarie. Il 31 dicembre sostanzialmente ci sarà la legge finanziaria e sapremo che incidenze essa avrà sui nostri bilanci. Noi contiamo di approvare anche il bilancio 2016 entro la fine dell'anno perché riteniamo che la programmazione sia indispensabile. Ci spostiamo a Chieti, giornata di Consiglio Comunale all'ordine del giorno tra i punti, il bilancio di previsione. Sindaco Di Primio, Consiglio Comunale importante oggi, si parla di bilancio dopo i rilievi dei revisori dei conti, qual è la situazione? I rilievi dei revisori riguardano parte di gestione del bilancio veramente pluriennale, non riguarda soltanto questa normalità. Parliamo di un bilancio di previsione però, quindi di quello che faremo in ragione di quello che abbiamo a disposizione. Abbiamo curato soprattutto che non ci fossero spese che andavano oltre le nostre reali disponibilità, abbiamo curato che non mi fossero tagli sul sociale che è la parte del bilancio che ci è più a cuore, abbiamo voluto soprattutto conservare una serie di opere che sono strategiche per la città e che quindi continuano ad avere spazio nel piano triennale e in quello annuale delle opere pubbliche. È un bilancio indubbiamente difficile, inutile negarlo, inutile nascondersi dietro un dito, ma è anche un bilancio che dà a noi la forza e la determinazione per dire che abbiamo la possibilità di andare avanti, che abbiamo possibilità ancora di investire sulla città e che soprattutto vogliamo investire sul futuro di questa città e questo lo possiamo fare curando i cittadini e curando i servizi. Qualche parte però bisognerà tagliare? Certo, abbiamo tagliato qualche milione di euro, abbiamo tagliato il superfluo, abbiamo iniziato a tagliare anche le spese che oggi non sono necessarie e se fosse mai nella necessità, nel bisogno di farlo saremmo disponibili anche a tagliare oltre, ma senza mai toccare politiche sociali e soprattutto i servizi ai cittadini. E una delegazione di lavoratori degli istituti riuniti in San Giovanni Battista di Chieti ha presenziato proprio il Consiglio Comunale e ha incontrato il Sindaco Assessori e Consiglieri per chiedere un impegno dell'Assise sui problemi che attanagliano la struttura di Piazza Garibaldi. Oltre un'ora di incontro con il Sindaco di Chieti Umberto Di Premio per parlare degli istituti riuniti San Giovanni Battista, cosa è uscito fuori da questo incontro col primo cittadino? Diciamo che la riunione che abbiamo avuto è positiva, abbiamo buone speranze e adesso aspettiamo solo che anche la Regione e l'ASL faccia la sua parte. Comunque tutti si sono impegnati, Chieti è l'unica istituzione che è rimasta poi tra parentesi è pubblica e di conseguenza loro vogliono far mantenere aperti gli istituti. Adesso dobbiamo lavorare anche sulla Regione che deve decidersi per la compartecipazione e per tutti i pagamenti che dobbiamo avere. Vogliamo un attimo parlare un po' delle problematiche degli istituti riuniti. Quali sono i problemi? Si parla di stipendi, di contributi ma voi siete soprattutto preoccupati per il futuro? Certo, noi siamo preoccupati per il futuro perché a prescindere dagli stipendi non ci dimentichiamo che noi facciamo assistenza a persone anziani e portatori di handicap. Di conseguenza ci sono problemi anche per il pagamento dei fornitori e la cosa è grave perché ci rimettono sempre le persone che non hanno nessuna colpa. Di conseguenza se rientrano tutti i soldi che noi abbiamo, cioè tutti i crediti che noi vantiamo riusciremo a mantenere questo istituto ed andare avanti. Nonostante ciò i dipendenti che non percepiscono lo stipendio vengono a lavorare e assistono sempre amorevolmente gli assistiti che noi abbiamo. E ora all'Aquila l'occupazione della sala riunioni del comune durerà finché non sarà approvata l'attesa delibera di rinnovo dei 56 contratti dei precari assunti dall'ente e scaduti lo scorso 30 settembre. Un'altra nottata accampati nella sala riunioni di Palazzo Fibbioni per i precari del comune dell'Aquila. Maestri d'asilo, amministrativi in tutta una sessantina di persone. E questa volta promettono di restarci finché il comune non troverà il modo di rinnovare i loro contratti già scaduti in nego al limite imposto dei tre anni del job act che loro hanno già consumato. I precari assicurano che bastano i pareri positivi già acquisiti del Ministero del Lavoro e dell'Avvocatura Comunale. Ma i dirigenti non ne vogliono sapere di firmare troppi rischi. E così il sindaco Massimo Cialenta ha chiesto un altro parere questa volta alla Corte dei Conti. E parere dopo parere, la nottata per loro sembra non finire mai. Innanzitutto noi dall'amministrazione vogliamo una risposta chiara sul da farsi. Ma soprattutto noi chiediamo che ci vengano rinnovati i nostri contratti di lavoro, visto che esistono tutti i presupposti sia a livello legislativo che a livello normativo e penso che pure anche a livello della copertura finanziaria, visto che ci sono i decreti, le leggi, nonché la disponibilità da parte del comune. Pertanto chiediamo che si sblocchi questa situazione di stallo che ormai sta diventando veramente assurda e paradossale perché nel frattempo si è creata una situazione veramente pazzesca. Si allarga il fronte della frana a Colleparco a Teramo. Il sindaco questo pomeriggio ha effettuato un sopralluogo con il sottosegretario alla Presidenza della Regione, con delega all'Ambiente Mario Mazzocca per chiedere all'ente i 750 mila euro necessari per la messa in sicurezza. Sì, servono circa 750 mila euro, intanto l'assessore ci ha garantito i primi 300 mila euro che comunque sono una somma per iniziare comunque i lavori. Adesso però bisogna fare il progetto definitivo esecutivo, nel frattempo noi faremo un intervento di sistemazione, intanto momentanea, comunque per trascorrere l'inverno e per sistemare la viabilità. Ci sono anche 20 mila euro per il monitoraggio, questo ci permetterà di fare ulteriori studi e meglio approfondire la situazione di tutto questo territorio e quindi insomma è chiaro che a 300 poi andranno aggiunti altri 450 mila euro perché l'intervento è di 750 mila euro, però l'assessore si è reso disponibile da questo punto di vista, quindi diciamo che siamo soddisfatti delle garanzie che l'assessore ci ha dato. Si riuscirà a intervenire prima della stagione invernale? Con degli interventi di sommorgenza e comunque tesi a ripristinare un minimo di sicurezza e di agibilità all'artere stradale sicuramente, un intervento più consistente che comunque tenda a superare le criticità in maniera definitiva e duratura, consiglierei di attendere la primavera e magari utilizzare questo tempo per rendere cantierabili i progetti e espletare le procedure d'appalto, ma queste cose l'amministrazione sa benissimo, quindi credo che così come è stata Solerte finora procederà anche nel medio al futuro. Questi sono i fondi a disposizione che sono ex Feser e che sono utilizzabili a breve, come diceva il Sindaco, non domani ma nemmeno fra due settimane, nemmeno fra due mesi, sono fondi abbastanza certi e veloci, sicuramente certi e abbastanza veloci da poter utilizzare. Firmato questa mattina a Pescara un protocollo d'intesa fra Regione Abruzzo e INAIL per la salvaguardia degli infortunati sul lavoro. Presidente D'Alfonso, un importante protocollo d'intesa è stato firmato questa mattina con l'INAIL, quale è l'importanza di questo documento? Di non lasciare solo l'infortunato e per fare in modo che lui venga preso in cura e in carico mobilitiamo anche le competenze e le capacità di INAIL, INAIL significa anche tradizione su questo fronte, prevenzione ma quando la prevenzione non è stata sufficiente anche interventi riabilitativi, questo per ridurre il tempo di non lavoro dell'infortunato. Quali sono i numeri in Abruzzo nella nostra Regione e la tendenza qual è? Intanto c'è una consistente purtroppo problematica da questo punto di vista e il sistema delle istituzioni fa benissimo ad organizzarsi utilizzando competenze e bravure proprio perché casi di infortunio sul lavoro segnano numeri molto significativi in Abruzzo in ragione anche di una cantieristica che ha bisogno di maggiore rigore, ma anche il sistema della manifattura a volte si trova a produrre dolore in corrispondenza della forza lavoro. Alla luce di una riflessione adeguata su questo abbiamo firmato, volendolo fortemente, questo protocollo di accordo con INAIL per fare in modo che l'infortunato non sia solo. Si chiama Amico Parco, il progetto di rinascita di Villa dei Rises a Pescara affidata alla cooperativa Aurora Valori e Sapori dal comune di Pescara, nell'occasione inaugurata un'altalena per disabili. Si chiama Amico Parco, il progetto partito la scorsa settimana a Pescara. Il parco di Villa dei Rises affidato dal comune di Pescara dunque rinasce grazie alla gestione della cooperativa Aurora Valori e Sapori che si occupa in totale di una trentina di ragazzi. Aurora Valori e Sapori è data nel 2011 ed è un'associazione giovane che ha come fine l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate attraverso la creazione di opportunità di crescita personale e professionale. Il progetto di Villa dei Rises avrà come cardine la realizzazione di ogni forma di aggregazione e socializzazione destinata a promuovere e rafforzare la coesione sociale. In realtà non sono io che vi onoro ma siete voi che avete onorato me invitandomi a partecipare a questa bellissima iniziativa. Una manifestazione meravigliosa non solo per l'atto in sé, cioè per aver potuto vedere l'installazione di questa altalena per i ragazzi diversamente abili, ma soprattutto perché ho potuto notare quanta accoglienza, quanta partecipazione, quanta festa c'è in questo parco. Oggi abbiamo voluto dare fede alla nostra promessa, il nostro primo obiettivo, quella dell'installazione di un'altalena per bambini costretti in carrozzella. È stato un evento veramente molto sentito, forse inaspettato. La cittadinanza ha risposto tantissimo, anche prima con la raccolta fondi che abbiamo fatto. Ora abbiamo un sogno, un obiettivo ulteriore che rientra sempre nel progetto che si chiama Il mio amico parco. Un giardino sensoriale, un early garden, un giardino che servirà e sarà utilizzato in particolare dalle persone con tenenza senile, con i malati di Alzheimer o che devono fare semplicemente della riabilitazione. Ed ora andiamo a Bruxelles per l'inaugurazione della Galleria del Gusto dei Galabruzzesi. Con un taglio del nastro, o meglio, di un simbolico tralcio della vite abruzzese, ieri a Bruxelles il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e l'assessore alle politiche agricole Dino Pepe hanno inaugurato la Galleria del Gusto, un angolo espositivo all'interno della sede della regione Abruzzo in Avenue Louise realizzato con i fondi leader del Gal, Gran Sasso Questa iniziativa nasce come vetrina per i Gal, per i prodotti tipici abruzzesi, nello specifico quelli della zona del Gran Sasso, per offrire un palcoscenico internazionale a quello che è il nostro territorio. In che modo la regione Abruzzo si può muovere in questa direzione, non solo per i prodotti tipici, ma proprio in una strategia più ampia? È un'opportunità importante che i Gal organizzano queste animazioni qui a Bruxelles, perché un centro non è solo una città di riferimento del Belgio, ma è una città di riferimento dell'intera Europa. Qui girano tutti i paesi d'Europa, qui va fatta la promozione dei nostri territori, attraverso questa rassegna fatta oggi dal Gal, rassegna enogastronomica, si lega l'arte, la cultura, la conoscenza del nostro territorio, ma dei nostri territori. Quindi grande opportunità attraverso la conoscenza di questa animazione che fanno i Gal, ma soprattutto grande opportunità per i giovani, per le imprese di conoscere meglio l'Europa e quindi cogliere le opportunità attraverso bandi anche diretti di cui pochi ne sono a conoscenza. L'assessore Pepe inoltre ha voluto anticipare ai nostri microfoni le importanti novità emerse in giornata presso la Commissione sull'avvio del PSR 2014-2020. Proprio oggi abbiamo avuto un incontro con i nostri dirigenti della Comunità Europea che stanno verificando e studiando il nostro piano di sviluppo rurale. In questa settimana inizierà la consultazione formale e poi ci avviamo all'approvazione definitiva. Ci auguriamo tutti un'approvazione entro l'anno per pubblicare i primi bandi che riguardano sostanzialmente i giovani, la competitività e la promozione. Parte dall'Abruzzo un nuovo portale web che raccoglie l'offerta turistica degli stabilimenti balneari italiani. Vediamo di cosa si tratta. Parte dall'Abruzzo e precisamente da Giulianova. Un'idea innovativa per quanto riguarda la fruizione del mare, una piattaforma web sul modello che c'è per gli alberghi. Si potrà prenotare il proprio ombrellone da casa. Sì, è proprio così. Il modello è proprio quello del booking prenotazione online. Attraverso quindi cellulare, smartphone, tablet o qualsiasi altro sistema è possibile prenotare l'ombrellone ovunque ci si trova, la palma, l'ombrellone e la spiaggia desiderata in tutta Italia. Naturalmente spiaggiafacile.it rappresenta il nuovo portale del mondo balneare per il mare. Quindi è un'innovazione comunque nel mercato balneare. Ci sono anche altre aziende che hanno provato ma con scarsi risultati perché effettivamente o ci sono dei grossi costi in ingresso oppure perché comunque non si riesce ad offrire un buon quantitativo di spiaggia al mercato. Quindi l'utente non ha nessun vantaggio. Invece la nostra applicazione offrirà tantissime spiagge proprio perché sarà gratuita per i balneatori che potranno registrarsi e avranno la possibilità di utilizzare il nostro gestionale gratuitamente e offrire quindi la propria spiaggia agli utenti. Quindi l'utenza potrà confrontare offerte e servizi dei vari stabilimenti? Perfetto, potrà confrontare offerte, iniziative, servizi annessi e connessi se si accettano cani o no, quindi dog si dog no, attrezzature specifiche anche per i diversamente abili per usufruire della spiaggia, del bagnasciuga, addirittura per fare il bagno al mare. Quindi tutti i servizi annessi e connessi. Un portale unico che unisce e rende unico alle 33 mila aziende balneari in Italia, le mettono in rete unicamente con un'offerta specifica globale. Pagina sportiva serie B, iniziamo dal Pescara, ripresa degli allenamenti oggi al poggio degli ulivi per i biancazzurri in vista della gara di domenica sera ad Ascoli, assenti i nazionali Verre, Mandragora e Memusciai e nonché gli infortunati Sanzovini, Mignanelli e Bunoza. Nonostante tutte queste assenze il tecnico Oddo non si fascia la testa in preallarme, in particolare per l'emergenza a centrocampo. Ci sono anche Selasi e Bruno che ha finito di scontare la squalifica. Partita già ieri la prevendita dei biglietti e oggi alla ripresa degli allenamenti ha parlato il tecnico Oddo. Nel complesso abbiamo fatto bene dal punto di vista del gioco in fase di possesso palla, sicuramente non la partita migliore, ma sicuramente la partita migliore dal punto di vista della fase di non possesso, ossia quello che abbiamo provato negli allenamenti, cioè quello di andare ad aggredire alti, cercare di farli sbagliare, di indurli all'errore, ci è venuto molto bene, l'abbiamo fatto bene, l'abbiamo fatto di squadra, altre volte l'abbiamo fatto qualche volta per eccesso di generosità anche individualmente. Io ho sempre detto all'inizio che il Pescara qualitativamente è una delle squadre più forti del campionato, però ho sempre detto anche che non basta solo l'aspetto qualitativo ma ci vogliono tante altre componenti che a mio avviso stiamo piano piano raggiungendo. La componente numero uno è la squadra, cioè giocare di squadra, il singolo non fa la differenza, lo può fare in una partita. Impensabile che siano 90 minuti di non sofferenza, ci sono dei momenti di sofferenza in cui bisogna leggere attentamente quello che sta succedendo e adattarsi a quel momento della partita, quindi c'è stato anche un momento della partita in cui con il Cagliari siamo andati in difficoltà, ma abbiamo retto l'urto sia mentale che tecnico perché ci siamo sbrigliati bene del momento di difficoltà. Innanzitutto avremo una partita che sarà più difficile di quella di Cagliari, contro il Cagliari, perché per tanti motivi, uno per la situazione ambientale, un derby, sostanzialmente un derby, partita molto sentita, incontriamo una squadra molto esperta, incontriamo una squadra che viene da un 4-0 esterno e quindi in più non incontriamo la squadra più forte del campionato. Non è una provocazione, nel senso è facile trovare le giuste motivazioni, la giusta carica agonistica quando incontri una squadra come il Cagliari, probabilmente devi preparare bene i ragazzi al fatto che incontrerai una squadra che ha queste caratteristiche, che è una squadra che in questo momento starà bene mentalmente, che è una squadra molto esperta, che gioca in casa, che è un derby e quindi bisogna prepararla molto molto bene. Il calcio è tutto il contrario di tutto, quindi vedremo che succede. Noi come sempre prepareremo questa partita per andare a fare la nostra partita e provare ad andare a vincere. Anche per la Virtus Lanciano ripresa degli allenamenti con la presenza di Marilungo e Aridità che nonostante i relativi acciacchi erano stati convocati per la gara dell'ultima giornata contro lo Spezia. L'altro giocatore infortunato di questo periodo, ovvero Antonio Piccolo, continua il suo lavoro personalizzato seguito dallo staff medico. Domani per la Virtus doppia seduta, giovedì e venerdì sessioni pomeridiane, sabato la rifinitura al mattino e poi la partenza per la Puglia perché domenica la Virtus Lanciano giocherà alle ore 15 al San Nicola di Bari contro la squadra di Davide Nicola, reduce dal successo in rimonta nel finale a Latina. Nel prossimo servizio un bilancio di questo inizio di campionato della Virtus. La Virtus Lanciano torna all'antico e si riscopre più solida. La premeta ditta a Menta Aquilanti, due della vecchia guardia, sta fornendo prestazioni di alto livello e la squadra finora ha incassato appena quattro reti. Certo, il merito non è tutto loro perché c'è un'intera fase difensiva che funziona, ma l'intesa affinata negli anni dai due centrali concorre. Nell'ultima domenica la Virtus ha retto l'urto di un attacco importante come quello dello Spezia, disinnescando le iniziative degli avanti Calaio, Catellani e Scetum. Semmai i pericoli sono arrivati dagli inserimenti dei centrocampisti Brezovic, Palo e soprattutto Cianagia, ma qui è stato bravo Casadei a dire di no. Proprio il portiere è un'altra notaglieta. Quest'estate doveva essere il terzo della gerarchia di Daversa, ma il mancato arrivo di Cragno e l'infortunio di Aridità hanno regalato a Casadei un'opportunità che si sta ben giocando. L'infortunio di Aridità non è grave, ma il titolare può rientrare senza fretta e Casadei potrebbe difendere la porta della Virtus anche domenica prossima a Bari. Le note dolenti arrivano dall'attacco, appena quattro le reti segnate. Daversa smorsa le polemiche, ma la sensazione è che la squadra crei poco rispetto alla mole di gioco ampia che viene sviluppata. Mole di gioco è venuta meno solo a Modena, ma che si è vista in tutte le altre partite, ma le occasioni importanti da gol sono poche e se poi quelle che si costruiscono non vengono convertite, clamorosa quella di Ferrari con lo Spezia, si fa dura. Non è un caso che l'unica vittoria contro l'Ascoli sia stata approvviziata da due palle inattive, passate per il piede di Mammarella, il quale è stato funzionale anche in altre circostanze. Su azione sono giunti i gol di Ferrari a Vercelli e di Lanini a Trapani. Proprio Lanini può crescere ancora tanto, mentre piccole di Francesco, tra corsa, scatti e dribbling, hanno macinato tantissimo, ma concludono poco importa. Sarebbero importanti gli inserimenti dei centrocampisti, Zeduardo ha dato segnali, ma il più pericoloso continua ad essere il veterano Vastola, che quando gioca si regala sempre almeno una chance importante. Aspetti dunque salienti su cui D'Aversa può lavorare per far salire di livello i risultati della squadra. Andiamo in Lega Pro e parliamo di Teramo. C'è un giocatore, si tratta di Diego Cenciarelli, che in questo momento è vittima di un infortunio che sta smaltendo, ma si consola con il prolungamento del contratto annunciato poco fa dalla società, un contratto prolungato fino al 30 giugno del 2017. Poi ci sono le designazioni arbitrali per la Lega Pro, Teramo-Lupa-Roma, la gara si giocherà sabato alle 17.30, sarà diretta da Vittorio Di Gioia della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Parrella di Battipaglia e Pizzi di Termoli. Non sono stati presi i provvedimenti disciplinari nei confronti del vice allenatore del Teramo e preparatore dei portieri Zambardi, che è stato allontanato dopo il gol subito a Pontedera contro il Tutto Cuoio per proteste, per lui soltanto una ammunizione. Oggi doppia seduta per i ragazzi di Vivarini, ha parlato il capitano Ivan Speranza. Secondo me il fallo c'era anche prima, dove Vittor è uscito in mezzo a due e lì già c'era fallo, secondo me. Dopo magari sulla scivolata la palla l'ha presa, però ha preso anche Vittor. Poi dopo magari siamo stati un po' più ingenui noi, secondo me, perché a quel punto ci aspettavamo comunque che buttassero la palla fuori, perché nel primo tempo è successa un'azione simile dove abbiamo buttato la palla fuori. Quindi ci aspettavamo la stessa cosa da parte loro, però non c'è stata e noi magari abbiamo avuto un attimo di tentennamento, invece noi fin quando la palla non va fuori dobbiamo continuare a giocare. Ma da premettere che non è facile giocare dopo tre mesi di preparazione noi, quindi con varie situazioni che già sappiamo. Si è capito subito il campionato che è. La prima cosa da fare è quella di ormai di ormai abbandonare il ricordo dell'anno scorso e calarci in questo campionato a tutti gli effetti, con la mentalità giusta, con la voglia, la fame e la cattiveria che ci ha contraddistinto l'anno scorso. Non possiamo pensare magari di essere superiori solo perché l'anno scorso è andata no. Per far bene, come abbiamo fatto bene l'anno scorso, ci sta il lavoro durante la settimana e portarlo la domenica. Personalmente dico che dopo quattro stagioni qui, comunque quattro stagioni vincenti alla fine, quindi lasciare andare via mi era molto molto difficile, nella mia testa non c'era proprio. Quindi si è fatto un discorso con la società, si è visto che comunque il Presidente non voleva mollare e nel senso voler far bene di nuovo quest'anno. Si è rimasto e si è deciso comunque di rimanere oltre al mister che è un punto fondamentale per noi e con poi i giocatori dell'anno scorso si è deciso di rimanere. E ora parliamo dell'Aquila. La squadra rosso-blua ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della prossima gara contro il Savona. Si cercherà un pronto riscatto dopo i tre K.O. consecutivi. Sono ripresi oggi gli allenamenti sul campo di San Gregorio per la preparazione della gara interna di sabato prossimo contro il Savona. Per l'Aquila calcio una partita fondamentale sia per i punti che per il morale. La squadra arriva infatti da tre sconfitte consecutive, l'ultima rimediata sul campo della spalla capolista nel girone B di Lega Pro. E mentre il tecnico Perrone e il direttore Battisti predicano calma e parlano di sconfitte immeritate, per l'undici Aquilano davanti al pubblico amico sarà importante cominciare a fare punti. Tra le file Aquilane mancherà il centrocampista De Francesco, espulso nell'ultima partita, mentre dovrebbe tornare a disposizione Ceccarelli dopo il problema fisico avuto nelle scorse settimane. E come abbiamo sentito, squalificato De Francesco, espulso nella gara di Ferrara domenica scorsa, mentre il direttore di gara designato per l'Aquila Savona è Davide Andreini della sezione di Forlì, gli assistenti Luigi Lanotte di Barletta e Marco Di Benedetto. Prima di chiudere lanciamo la trasmissione di questa sera, il doppio appuntamento lo facciamo andando nello studio di Proteramo da Jacopo Forcella. Ciao Andrea, buonasera a tutti gli amici del TG6, siamo pronti per questo secondo appuntamento con Proteramo, l'approfondimento di Lega Pro, tutto incentrato sui colori bianco rossi del TG6, insomma è un momento un po' così, un po' particolare, è arrivata la seconda sconfitta consecutiva contro il Tutto Cuoio, però hai detto bene tu, è arrivato il rinnovo di contratto per Diego Cenciarelli fino al 2017 per il centrocampista, adesso ci sarà un'altra settimana di passione tutta da vivere perché il Teramo scenderà in campo tre volte in una settimana, si comincia sabato ore 17.30 contro la Luba Roma, poi ci sarà il recupero con il Pisa, questa sera avremo come al solito gli ospiti dalle 21 alle 21.45, faremo un po' il punto della situazione in casa Teramo e poi dalle 21.45 come di consueto andremo all'Aquila per la parte rosso-blu della sera di Lega Pro, è tutto a te Andrea. Grazie Jacopo, buona trasmissione, pro Teramo a partire dalle ore 21 a seguire pro l'Aquila, le nostre due realtà di riferimento nei campionati di Lega Pro. Il TG6 termina qui e torna domani con la prima edizione delle ore 14, grazie per l'attenzione, buona serata. Il TG6 termina qui e torna domani con la prima edizione delle ore 14, grazie per l'attenzione, buona serata. Il TG6 termina qui e torna domani con la prima edizione delle ore 14, grazie per l'attenzione, buona serata. Grazie per l'attenzione, buona serata.